Come verificare se le leggi e gli interventi regionali hanno risolto il problema che si proponevano di affrontare? La valutazione sull'efficacia delle politiche è stato il tema dell'incontro organizzato da Capire, progetto per il controllo delle assemblee sulle politiche e gli interventi regionali, con l'Università di Torino, che si è tenuto a Palazzo Lascaris.